Se stai seguendo questa playlist come principiante e dovessi trovare questo video un po' troppo dettagliato o difficile, puoi saltarlo senza compromettere il resto della playlist. Ma il mio consiglio è di provarci e in ogni caso ritornare più avanti quando ti sentirai più pronto. Buona visione. Nel video precedente abbiamo visto come una funzione guadagni l'accesso, oltre scontato alle sue variabili interne, anche a quelle della funzione all'interno della quale è eventualmente dichiarata e alle variabili definite nello scopo globale. Si dice che la funzione realizza una closure. Una closure è quindi definita dalla funzione e dagli scopi a cui questa ha accesso. Oggi, dopo aver messo a fuoco alcuni particolari sempre riguardanti le closure, riprenderemo anche il concetto di funzione autoinvocante presentando alcune applicazioni davvero utili e particolari di questi concetti. Zoomiamo un attimo su questo codice. Ha un aspetto sorprendente. La function esterna, ormai l'abbiamo capito, può accedere senza problemi e nella sua closure ha queste variabili. In particolare, cosa fa? Assegna a questa variabile funzione una sua funzione interna, questa che è definita dentro f esterna. Cioè, capite quello che si è fatto? In pratica abbiamo memorizzato una variabile che è all'esterno delle due funzioni, un riferimento a una funzione che è interna, teoricamente irraggiungibile. Quindi, dopo l'esecuzione, come andava qua, di f esterna, questa variabile ha un riferimento a una funzione, che però, in senso comune, potrebbe portarci a concludere che non dovrebbe più esistere. Perché la funzione f esterna ha terminato la sua esecuzione e, soprattutto per chi proviene da altri linguaggi di programmazione, questo di solito corrisponde a vedere morire tutto quello che la riguarda, la sua parte interna. Per cui, richiamare con la variabile funzione questa interna dovrebbe risultare un qualcosa di non determinato o di un errore in esecuzione. Tutto sommato, sembra proprio che quando si tenta di chiamare interna, questa non esista più. Non solo, la funzione interna stampa la variabile var esterna. Anche lei, essendo locale alla funzione esterna, dovrebbe essere già morta, quando poi dall'esterno si chiama funzione. E invece, ce lo conferma l'esecuzione, pare non vi sia proprio nessun problema ad accedere a tutto. Una delle caratteristiche forti delle closure è proprio questa. E cioè che A, la definizione di una funzione, a patto di memorizzare nel riferimento a qualche parte, esiste. E B, ancora più interessante, che la closure, cioè le variabili come questa che è locale alla funzione esterna, essendo però ricompresa nella closure della F interna, non smette di esistere. E' ancora utilizzabile. Cioè, quando qui, tramite funzione, chiamiamo questa, si va a stampare questa variabile locale, che molte avranno pensato non esiste più, perché la funzione esterna ha terminato la sua esecuzione. E invece lì, è ancora disponibile nella closure della funzione che l'ha catturata. Aggiungiamo ancora un pizzico di magia. Beh, intanto scopriamo che non c'è nessun problema a dotare di parametri la funzione che sarà poi richiamata. Anche i suoi parametri fanno banalmente parte della closure di F interna. Ma non solo, anche quest'altra variabile, che è stata definita dopo, essendo comunque parte del contesto globale che viene catturato nella closure di F interna, è disponibile. E con il suo ultimo valore. Questo perché anche se a livello posizionale il let è stato messo dopo le function, l'assegnamento avviene prima che venga chiamata esterna, che salva in funzione riferimento interna, per poi chiamarla. Provate infatti a spostare il let dopo F esterna in funzione e otterrete un errore di non definito. Ricordiamoci però di indicare il parametro che abbiamo aggiunto, la X, e poi eseguiamo. Ok, va bene, ma al di là dei tecnicismi, del come funzioni, so che c'è il domandone che vi sta frullando in testa. Anche nella mia in realtà, finché non ho approfondito la cosa. E cioè, al di là di questi tecnicismi, dall'aver capito come funziona il tutto, dov'è che lo possiamo sfruttare? Dove torna utile? Beh, io scommetto che molti di voi che probabilmente già conoscono e masticano un pochino il javascript, spessissimo avranno, magari semplicemente copiandolo, incollandolo, utilizzato il comando setInterval, che permette di eseguire una certa funzione ogni tot millisecondi. Ad esempio, questo setInterval chiamerà ogni mille millisecondi, quindi ogni secondo, la funzione messaggio, che qui ho scelto di definire separatamente, ma naturalmente non ci sarebbe alcun problema nel sostituire qui una funzione anonima in line, o, dobbiamo ancora parlarne, in forma ancora più snella, una funzione freccia. Vediamo l'inazione. Non ho messo nessun conteggio che stoppi il richiamo, andrebbe avanti all'infinito. La funzione messaggio, così, è un po' rigidina, dovrebbe quanto meno ricevere come parametro il messaggio, in modo da poterla sfruttare in tante situazioni diverse, così. E adesso, ingenuamente, potremmo indicare messaggio con la stringa che vogliamo che sia stampata, per scoprire che non funziona un bel niente. Viene scritto una volta sola, il messaggio poi basta. Forse qualche errore di sintassi, richiamo la console, niente. Ma se focalizziamo, è giusto che non accada nient'altro. SetInterval si aspetta di ricevere come primo parametro l'indirizzo di una funzione. Questo è l'indirizzo di una funzione, il suo nome, il suo identificatore. Questa è una chiamata di funzione. Il tutto è sfizioso, potrebbe funzionare se questa chiamata di funzione restituisse un puntatore a funzione, un riferimento a una funzione. Proviamo. Ora che sappiamo che le funzioni sono anche espressioni, non c'è nessuna sorpresa, forse, nel restituire con un return una funzione anonima. e a questa le facciamo stampare questo. Adesso questa chiamata verrà effettuata, verrà stampato una volta il messaggio, poi verrà restituito come risultato la funzione, che è quella che vuole il SetInterval, che comincerà a stampare ogni mille millisecondi, sorpresa. Provare per credere. Ci mordiamo la coda. Qua dovremmo indicare un parametro, ma a quel punto messaggio non serve più considerato una funzione. Come fare? Dovremmo dare la possibilità messaggio di accedere a una variabile al di fuori di se stessa, che non sia un suo parametro, ad esempio. Beh, ma questa è una closure. Se facciamo in modo che messaggio sia indicata nel contesto di una closure, dove c'è la variabile che contiene la stringa da stampare, sappiamo che in esecuzione il messaggio potrà accedere all'ambiente corrispondente alla sua closure, e quindi anche a quella variabile. Il trucco consiste nell'incapsulare la funzione che svolge il compito vero e proprio all'interno di un'altra che potremmo intendere come ausiliaria. La chiamo chiamamessaggio. Ed è lei, non l'altra, a ricevere il parametro corrispondente alla stringa del messaggio da stampare. Tanto sappiamo che grazie al meccanismo delle closure, messaggio, funzione interna, chiamamessaggio, catturerà nella sua closure anche il parametro ricevuto da chiamamessaggio. Perfetto. Ho eliminato quindi il parametro dalla funzione messaggio. Particolare molto importante, la chiamamessaggio termina restituendo un riferimento alla funzione interna messaggio, return messaggio. Riconsideriamo adesso cosa accade quando indichiamo la setInterval la chiamamessaggio con il messaggio che vogliamo che sia stampato. Questo non è un riferimento, lo sappiamo ormai, a una funzione. È la chiamata di una funzione, che però restituisce un riferimento a una funzione, la messaggio, e ottiene come effetto collaterale molto interessante il fatto che il parametro che stiamo qua indicando la chiamamessaggio diventerà disponibile in realtà nella funzione messaggio in quanto nella sua closure. SetInterval comincerà quindi a ripetere l'invocazione della funzione restituita la chiamamessaggio, cioè la messaggio, con il tanto anelato comportamento. Questa soluzione, che è un po' il risultato di aver seguito il ritmo della lezione, però non mi piace, è moltissimo, perché non è autocontenuta. Ho il SetInterval da una parte e la Function dall'altra. La commento per far spazio a questa che ritengo decisamente superiore. È una sola, riceve il messaggio da stampare e chiama internamente la SetInterval indicando poi la Function anonima come prima. E come prima questa Function, grazie alla closure, acchiapperà nel suo scope il parametro del messaggio ricevuto da chiamamessaggio. Ed ecco il risultato. Bene. Adesso vi do il compito. Riuscite a pensare a una versione della chiamamessaggio che ripeta per un certo numero di volte il messaggio e poi si fermi? Ecco la mia proposta. Ho semplicemente aggiunto un parametro, volte, che indica il numero delle ripetizioni e ho memorizzato in una variabile che farà parte della closure della Function anonima il risultato di SetInterval, quel timer, che mi consentirà poi di bloccare la ripetizione con la funzione ClearInterval. Dopo aver stampato il messaggio a cui ho aggiunto anche il numero delle volte, decremento numero volte, poi decido se è arrivato il momento di fermarsi, controllo volte, se è diventato minore di 1, chiamo, come ho detto prima, il ClearInterval sul timer, la variabile della closure della Function anonima. Ok. E a risentirci al prossimo video, che penso sarà l'ultimo, dedicato alle funzioni. Grazie a tutti.